Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presentiamo l'ultima espansione uscita per Zombicide, versione Black Plug, quindi la versione fantasy medievale, uscita tradotta in Italia a cura dell'Asmoni, che ovviamente ancora una volta ringraziamo per il supporto, per avercene fornito una copia per la recensione, grazie ragazzi, immensamente grazie ed è un piacere come sempre lavorare con voi. No Rest for the Wicked è una piccola espansione, come se vi ricordate quella che uscì la prima di Wolfsburg, in cui all'interno c'è una nuova mappa, delle nuove avventure, ma soprattutto delle nuove miniature che dopo vi faremo vedere a modino, zoomate e tutto quanto, e una qui in particolare è quella del Drago, che mia moglie, e ve lo faccio vedere perché è la parte più bella, che solo questo dovete comprare la scatola, dipinto da mia moglie, tra l'altro le faccio complimenti, e questa è la miniatura più bella perché ragazzi guardate quanto è grande, cioè vi faccio vedere un dito, che di solito no, sono le dimensioni di un'altra miniatura, vi faccio vedere accanto ad esempio un orso gufo, ok, di Dungeon & Dragons Fantasy, cioè guardate quanto è grande in confronto al Drago, questo è il classico Drago che potete trovare tranquillamente in un gioco della GV, un Drago Leech, mica quanto è bello. Il gioco è della Kmon, come tutti i giochi di Zombicide, e vi ricordo di andare a vedere il sito dell'Asmodi che trovate in descrizione perché sempre questo mese uscirà un'altra espansione Friends or Foes, ma soprattutto a giugno uscirà Zombicide Invader, che noi non vediamo l'ora di ricevere perché sarà un nuovo Zombicide con un'altra ambientazione futuristica che ricorda un po' tipo o Starship Troopers o perché no anche un Warhammer 40.000. Passiamo all'unboxing, la confezione del gioco, ovviamente molto contenuta come dimensioni, più o meno l'espansione di Zombicide sono sempre così e trasportabile facilmente. Tra l'altro il disegno che c'è sopra, il layout, la colorazione digitale e tutto quanto, ragazzi, secondo me, come giochi di miniature, al solito la Kmon la fa da sovrana insieme alla Monolith, che secondo me sono in assoluto i migliori. Apriamo. All'interno le regole di gioco, che sono cinque pagine perché c'è ben poco d'altro da discutere. Le nuove carte all'interno che presentano la nuova carta del Drago, ovviamente. Poi in più all'interno c'è anche una carta rovina in questo mazzo, che serve per delle regole che vi descriverò più avanti, più altre carte per delle regole speciali appunto che hanno i nuovi mostri all'interno di Zombicide No Rest for the Wicked. Qui al centro dove vedete vuoto c'erano le ali e il corpo del Drago, la balista, i nuovi zombie spettri e gli sciami di ratti. E la miniatura del Drago, guardate qua, dipinta da mia moglie e lei è venuto fuori davvero un lavoro spettacolare. Brava amor mio! Tra l'altro miniatura scolpita benissimo ai ragazzi, cioè guardate voi che pezzo che è questo. La base ovviamente non è ancora finita, gli ha dato soltanto una prima colorazione. È stato colorato con colori combinati sia dell'Army Painter che della Citadel, quindi soprattutto le ali ecco sono stati fatti con colori invece della Citadel e ci piacerebbe prendere altri di questi draghi per colorarli magari in... questo qui l'abbiamo fatto più drago boschivo, sembra quasi classico drago che vomita bile o cose del genere o acido, vorremmo fare magari altri tipi di draghi, quello che sputa fuoco, quello che invece tira il ghiaccio, sarebbe una cosa bellina. Lo spettro, che è una delle pedine più belle, secondo me, caratteristiche di questa nuova espansione, che ha delle regole particolari. Come tutti quanti gli zombie viene attivato quando si pesca una carta zombie spettro presente nel mazzo e può essere combinato con qualsiasi altra espansione o gioco base di Zombicide. Come regole speciali gli spettri hanno che si muovono sempre di uno, come tutti quanti gli zombie normali, e fanno una ferita soltanto quando arrivano in corpo a corpo. Possono essere unicamente feriti da armi magiche, quindi armi della cripta, armi magiche, incantesimi o dalla balista. Non possono in nessun caso essere feriti da armi normali. Sciammi di ratti, che vengono attivati anche lì quando la carta viene pescata dello sciammi del ratto. E gli sciammi di ratti si muovono di due invece caselle, quindi come runner, però fanno soltanto un punto ferita, perché sono tanti, si muovono in gruppo, ma comunque sono piccoli. Quindi regola speciale possono passare anche su terreni impervi, quindi possono passare anche attraverso siepi, possono passare attraverso l'acqua, ovviamente non possono passare attraverso porte chiuse e muri. Il drago, che come regola speciale ha che quando viene pescato esce la carta del drago, quindi come il necromante, per capirci, no? In black plug normale, entra in gioco il drago e quando entrerà in gioco entrerà sempre al centro di un tile. Quindi se nel caso abbiate quattro quadranti sulla mappa, lui entrerà sempre al centro di un quadrante. Regola del drago è una. Quando spona, quindi la prima volta che entra in campo, o perché si muove di un quadrante intero, quando dovrà muoversi, lui si muoverà sempre di quadrante in quadrante, in un punto ovviamente dove c'è più rumore o dove ci sono più sopravvissuti, come uno zombie normale. Quando atterrerà al centro di un quadrante, dovrà essere pescata una carta di quelle dal mazzo che vi ho fatto vedere durante l'unboxing e in questa carta ci saranno delle regole speciali per vedere cosa succederà. La regola del drago è che lui è in volo, quindi si sposterà sempre volando in qualsiasi parte della mappa, non è bloccato da nessun tipo di terreno e quando atterrerà sotto di lui tutto quello che colpirà verrà distrutto. Nel caso ci siano zombie nella sua zona d'atterraggio, li ucciderà tutti quanti. Nel caso ci siano giocatori, la regola dice che dovremmo fare testa una carta, fede una carta, tirare un dado e vedere lo spostamento d'aria verso che direzione avrà spostato gli avventurieri. Nel caso gli avventurieri non siano spostati ma rimangono sotto l'area d'effetto della pedina del drago, subiranno invece due punti ferita senza nessun tipo di tira armatura. Questa è la regola di movimento e di attacco del drago, quindi il drago non è una miniatura che avanza e attacca, è una miniatura che all'inizio di ogni turno quando viene attivata nella fase zombie vola, atterra e quando atterra distrugge. Contra l'altro un'altra regola bellissima che nel caso dovesse atterrare al centro di un tile, quindi proprio di una zona intera di gioco, di un quadrante e quella zona centrale dove atterra fosse un edificio, quella zona dell'edificio verrà distrutta, verrà inserita in quella parte una carta a macerie e in quella zona assolutamente non ci si potrà più muovere né passare attraverso. Quindi nel caso fosse una zona per la missione dove bisogna andare lì e recuperare un oggetto la missione sarà fallita e quindi impegno a battere il drago il prima possibile. Altra regola è che all'inizio, perché quando inizia la fase di movimento del drago lui ha due fasi, la seconda fase che vi ho detto è questa del volo in movimento ma precedentemente ne è un'altra. Lui vomita zombie e forse è la regola più bella che c'è perché si fa conto che ha mangiato, ha divorato delle persone e poi dopo li rigurgita sotto forma di zombie. Il rigurgito ha una gittata di 0-1 quindi lo può fare sia in corpo a corpo nella stessa casella che una casella di adiacenza e bisognerà pescare una nuova carta dal mazzo generazione zombie facendo fede al livello di pericolo che c'è in quel momento, quindi o rosso o blu, vi ricordate, o giallo o arancione. Quando vomiterà zombie, sempre nella casella più vicina al maggior numero di suoni o di giocatori presenti, vomiterà zombie, si girerà una carta e automaticamente in quella zona, non all'interno di un edificio, quindi può essere solo esterna, non può vomitare dentro un edificio chiuso, verranno generati degli zombie che muoveranno non nel turno attuale ma nel successivo. Il drago ha una carta sua particolare che ogni volta dovrà essere girata ed è una carta vulnerabilità. Il drago è sempre, 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 100% delle volte ferito da un colpo di balista e quindi allontanato, ma può anche essere ferito da armi magiche, armi della cripta o incantesimi, però ogni volta che verrà sconfitto dovrà essere pescata una nuova carta da questo mazzo qua giù. Ogni qualvolta il drago verrà ferito cambierà la sua invulnerabilità e quindi dovrà essere ripescata una nuova carta dal mazzo qui presente per vedere a cosa sarà diventato, perché ogni volta un drago ha una specie di muta forma, cambia il tipo di invulnerabilità. Comunque la balista gli farà sempre danno. Ogni qualvolta il drago subirà almeno due ferite, quindi potrà essere ferito soltanto da armi che fanno almeno due danni, quindi armi che tirano più dadi ma fanno un danno unico e non gli faranno niente, tipo l'obeso se vi ricordate quello grosso. Lui verrà rimosso dalla tabella di gioco, spostato dal campo e non rientrerà in campo fino a che praticamente non verrà pescata nuovamente la sua carta. Il drago non muore mai, non potrà mai essere completamente tolto dalla mappa, ma ogni volta che verrà ripescata la sua carta lui tornerà in gioco e quindi è un nemico molto temibile che potrebbe anche non solo distruggervi il gruppo ma distruggere anche obiettivi importanti e dovrà essere eliminato il prima possibile. Ultima ma non meno importante la balista che è una figata assurda che per muoverlo sarà sempre come il trabucco. Vi ricordate il trabucco che avevo fatto vedere? Due azioni per sparare oppure due azioni per spostarla di una casella. Comunque il giocatore che tira con la balista, ok, avrà linea di visuale in tutto il tile dove tira senza alcuna limitazione, infatti è agitata uno o più o può tirare in tutta la mappa. Se il giocatore che spara non ha visuale sul bersaglio colpirà con il 4 o più tirando 3 dadi. Se invece il giocatore che spara avrà visuale o comunque un compagno, un altro player, un altro personaggio, un eroe avrà visuale sul bersaglio la mira abbasserà a 3 o più tirando sempre 3 dadi. La balista non ha un valore di danno, quando colpisce automaticamente distrugge, quindi non bisogna tirare per i danni, però la priorità va come quando si attaccano gli zombie normali, quindi andranno prima attaccati i grassoni, poi successivamente i diambulanti e poi i runner, insomma le regole sono sempre le stesse. Però la balista quando colpisce nella sua linea passa tutto, passa siepi, passa acqua, però non può passare le pareti, quindi quando il colpo della balista arriverà a toccare un edificio quella sarà al massimo della gittata. La balista verranno tirati i 3 dadi e per ogni valore superiore al 3 o più in caso di visto, al 4 o più in caso di tiro cieco, causeranno automaticamente un morto, non una ferita. Quindi qualsiasi cosa la balista colpisca, con un colpo la ucciderà. In conclusione ragazzi, è un'espansione di Zombicide Black Plug del costo sempre di 45-50 euro, più o meno il costo in quello lì. A differenza di Wolfsburg, qui dentro troviamo miniature, però non ci sono tile di gioco. Ci sono le carte, ovviamente, e i tile di gioco neanche servirebbero, perché poi alla fin fine sono quelli del gioco base. Però, secondo me, la figata questa volta, perché Wolfsburg era bella, inseriva il trabucco, inseriva magari il tile allagato, vi ricordate le sepe, metteva nuove tattiche in gioco, però secondo me questa è ancora più bella, per quanto non inserisca nuove mappe, perché c'è la balista, che intanto è un'arma in più che da aggiungere al trabucco, è una figata assurda. Ci sono gli spettri, che sono molto interessanti, perché ti trovi a combattere e non c'hai armi magiche e, insomma, un po', un po' la strizza ti viene. Ci sono gli sciami di ratti, ma in più, soprattutto, ragazzi, c'è il drago che, boh, io veramente, non sto scherzando, fosse costata 30 euro, all'interno c'era il regolamento, le carte e il drago, l'avrei comprata uguale, perché, porco mondo, veramente è bellissimo e quindi aggiunge tanto spessore. Ma la figata che io continuerò sempre a dire, ora, inizierà a volerci una certa valigetta per trasportare tutto, perché iniziano ad essere tanti giochi fusi in uno. Ma la cosa brutta, forse, di Zombicide Black Plug è che, quando si iniziava, erano umani, eroi contro zombie, contro zombie, contro zombie. Ma lo vedete come si sta espandendo questo gioco e Dio li benedica per davvero? Si sta espandendo che c'erano gli zombie, poi arrivano gli orchi, ovviamente sono tutti non morti tutti i zombie, quindi parliamo sempre di non morti, zombie normali, di ambulanti, poi arrivano gli orchi con nove regole, poi arrivano i licantropi e i lupi mannari, ora arrivano gli sciami di piratti e i fantasmi, addirittura inserito in campo un drago. Cioè, diventa una cosa fighissima, perché ti non sai mai girando le carte, ti verrà un malloppone di carte così, però non sai mai girando le carte cosa capiterà. Cioè, come Iro, questo è il bello, da prima stanza ci poteva essere un orco, ma ci poteva essere un guerriero del caos. Quindi è l'imprevedibilità che dà spessore ad un gioco che, secondo me, anche se complessivamente vi verrà a costare 400-500 euro, perché hai comprato tutto, insomma, i costi sono quelli lì, ma ne sarà valsa la pena da morire. Ragazzi, come voto per questa espansione? Gli do 8, ovviamente perché Migal va da morire e arricchisce, anzi, gli do 8 più, perché anche col drago, secondo me, ha un valore aggiuntivo. Forse l'unico, 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 l'unico di numero. Piccolo appunto che posso fare è che nel caso degli spettri, insomma, di quelli piccolini che vi abbiamo fatto vedere inizialmente, mi sarebbe, ma poi quelle soccazzate, perché secondo me potrebbero fare un'errata con Rige che ce lo inserisce, insomma, sono spettri. Farci una regola che si potevano muovere anche attraverso le pareti, mi sembrava proprio console al massimo livello, però secondo me è una cavolata che anche con Home Rules ve la potete fare tranquillamente da soli a casa. Quindi un 8 più, se lo merita da morire, link in descrizione per acquistarlo e ragazzi dell'Asmodi, veramente, siamo onorati come sempre di partecipare con voi e Zombicide. Guardate lì dietro, metà libreria nostra è Zombicide, quindi saremo appassionati. Non vediamo l'ora che arrivi anche in vedere a giugno e ragazzi assolutamente compratelo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo a un prossimo video. Ciao belli!